giornata surreale le colline sono completamente sgombra bellissime si vede lontanissimo e noi e noi andiamo a fare un vernasca poi ci fermiamo dal meccanico a far vedere il cambio e si torna casa ma voglio parlare di un'altra cosa vi voglio parlare del setup che uso quotidianamente per andare in bici un'altra cosa non so se si vede ma tutta la catena delle alpi stupenda innanzitutto perché uso questo setup? questo setup lo uso perché uno è aerodinamico quindi non ho nessuna cosa che sporge due non è pesante queste borse qua non pesano veramente niente tre sono facili e accessibili tutte le cose anche mentre si va ci hanno delle cerniere che sono uno spettacolo veramente uno spettacolo e questa prevalentemente la uso solo esclusivamente per la GoPro ne ho anche un'altra ma questa qui la uso quando vado a fare dei viaggi qui c'è il po' una retina molto bella qua ci si potrebbe mettere dentro tranquillamente le cartacce non so delle barrette un fazzoletto tutte queste cose qua che al posto di gettarle se non si ha un bidone a portate di mano questa borsa qui l'avevo già descritta in un mio video è comoda perché dentro ha un velcro e volendo si potrebbe anche dividere quindi sotto ci si mettono delle cose un po' più pesanti e sopra delle cose subito a portate di mano io sotto vi metto in descrizione il link dove potete trovare queste borse che sono della ditta di Kicking Donkey posseggo anche una borsa a sottosella da 16 litri che però questa qua utilizzo solo esclusivamente quando faccio giri più grandi, più lunghi e devo portarmi dietro della roba per dormire non sono impermeabili però se avete qualcosa dietro tranquillamente con dei secchetti di plastica riuscite tranquillamente a portarli e evitare che si bagnino io qui dentro porto anche molte volte il drone quindi ci sta dentro il radiocomando e drone della DJI, il Mavic Mini niente questo qua è tutto io queste borse qua non le tolgo mai le tengo sempre perché mi sono sempre comode in qualsiasi situazione ditemi un po' voi se avete delle borse, quali borse avete, come vi trovate e se il video vi è piaciuto mettete un mi piace qui sotto iscrivetevi al canale e ci vediamo come sempre sabato alle ore 12 su questo canale da Bernasca è tutto ciao